Pisa, i poliziotti lo hanno arrestato dopo un rocambolesco inseguimento tra i palazzi del centro dopo che il ladro, un carrarese di 25 anni, stato sorpreso all'interno di una propriet condominiale nella quale si era introdotto per tentare di rubare. Il giovane ha provato a sfuggire all'arresto attraverso i tetti dei box della Resede, e ha opposto una violenta resistenza all'arresto, provocando ferite guaribili in 7, e 25 giorni a due agenti. Il ladro risultava ricercato da tempo perché destinatario di una custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca per reati legati agli stupefacenti e colpito da divieto di Didi di Mora a Pisa. Una volta fermato l'atletico malvivente ha ammesso di essere un campione di Muay Thai. Il giovane, mentre forzava l'ingresso del palazzo, stato visto da un passante, che ha avvertito il 113. Nello zainetto del malvivente, sono stati trovati arnesi atti allo scasso e i munili in oro, perle, una cintura fendi, monete d'oro e banconote in valuta estera rubati in due distinti furti commessi tre giorni prima nel Carrarese. Il 25enne è stato arrestato per il reato di tentato furto in abitazione, possesso di arnesi atti.